Vastese e Termoli si dividono la posta in palio al Cannarsa, apre Carnevalli nel primo tempo, risponde Ricciardo per gli ospiti nella ripresa. Mandiamo per ordine nei biancorossi, mister Ferrazzoli, reduci dal pareggio di Avezzano, si affida a un 4-2-3-1 con Di Nardo, terminale offensivo e manda subito in campo l'ultimo arrivato, Gomez. Gli aragonesi scendono sul terreno di gioco con il lutto al braccio per ricordare il direttore sportivo Alfonso Calvitti, scomparso in settimana a Dovio Gara, un minuto di raccoglimento. E striscione della curva Davalos con suscritto, è solo un arrivederci, ciao Alfo. I giallorossi di Esposito a caccia della prima vittoria stagionale si schierano con un 4-3-3, pronti partenza via e subito pericolosi padroni di casa dopo appena 37 secondi, attento del giudice che respinge la conclusione. I giallorossi continuano a spingere, al decimo trovano il gol del vantaggio in contropiede. Carnevale si libera di un avversario e fredda del giudice sul primo palo con un tiro millimetrico dal limite 1-0. Al venticinquesimo primo cambio per i locali con Ferrante costretto a lasciare il campo per infortunio dopo uno scontro con Busetto che viene anche ammonito al suo posto. Entra Conte, al trentesimo Lava Stese perviene al pari con un colpo di testa di Di Nardo ma l'arbitro Bonci annulla per presunto fuorigioco dell'attaccante maglia numero 9. Al trentacinquesimo Di Nardo ci riprova sempre di testa, la sua torsione viene respinta di piedi da un intervento distinto di Merelli. Al quarantacinquesimo si rivede il termoli dalle partiti del giudice, l'estremo Biancorosso fa buona guardia sul tiro da fuori di Defendi. Si va a riposo con il vantaggio di misura dei locali. Nella ripresa in casa aragonese fuori Mazzotti e Maiorano dentro Ricciardi e Calì, Biancorossi a trazione offensiva. Al secondo minuto subito pericoloso il neo entrato Calì con una conclusione sul primo palo. Si salva Merelli al nono Lava Stese perviene al pari corner di Busetto. La sfera arriva a Ricciardo che la piazza fa 1-1. Al ventinomesimo ancora pericolosi gli aragonesi quasi sulla linea si salva la retroguardia molisana al trentesimo. Insi infortunia Orchi al suo posto in difesa entra Altobelli. Da qui a fine gara non succede altro. I Biancorossi salgono a quota 7 in classifica. Il termoli a quota 2. Mister Ferrazzoli, un pareggio, buona reazione della sua squadra. Ancora un primo tempo così così, poi una buona reazione, si è visto una bella pastesa. Sì, dispiace perché ci complichiamo un pochino la vita da soli. Però c'è da prendere la bella reazione che abbiamo avuto, che hanno avuto i ragazzi. Hanno rimesso la partita, hanno creato qualche occasione. Insomma, penso che avremmo meritato qualcosina in più. Però in tutti noi non c'è grande soddisfazione perché sappiamo che queste partenze d'anticap ci costringono a fare sempre rincorse spericolate, a fare sostituzioni che magari possono avvenire anche in corso del secondo tempo. Invece quando è così dobbiamo sempre mettere a rischio gli equilibri. Perché nel secondo tempo, è vero, abbiamo giocato un grande secondo tempo, abbiamo creato tanto, però qualche ripartenza l'abbiamo subita. Quindi non riusciamo a partire subito forte. Ecco, questo è un problema che dobbiamo analizzare, che dobbiamo cercare di risolvere il prima possibile. perché già sono sette partite e dobbiamo risolverlo subito. Secondo lei è una questione di approccio, una questione mentale? Ormai abbiamo visto tante partite della Vastese, sembra veramente una squadra dai due volti. Ma io non lo so perché durante la settimana facciamo tutto quello che dobbiamo fare. La domenica in alcune cose manchiamo, e tra cui queste della partenza subito, stare subito attenti e concentrati. Penso che siamo andati tra il Natto Lentino, siamo andati sempre sotto nelle sei partite restanti. Quindi, ripeto, è un problema che dobbiamo risolvere immediatamente. Vedremo, parlerò con i ragazzi, farò parlare loro. Non so quale possano essere le cause. Perché ribadisco, durante la settimana, anche prima di entrare in campo, i presupposti e i propositi sono buoni, e poi puntualmente succede questo. Però, ripeto, io so benissimo che non vincere dà fastidio. Però non c'è neanche da flagellare i ragazzi. Perché, come è vero che commettono delle ingenuità, è anche vero che dopo buttano il cuore oltre l'ostacolo e fanno partite, grandi prestazioni. La squadra è strutturata per fare un campionato importante. Ripeto, dobbiamo impegnarci e soprattutto capire il perché di queste partenze d'handicap. Va bene, a posto, mister, io sono ok. Mister Esposito, un bel termo lì nel primo tempo, grande intensità della sua squadra. Poi siete calati un pochettino, a merito anche della vostra stesa. Ma sì, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, soprattutto i primi 30 minuti, dove riuscivamo ad uscire bene palla a piede. Abbiamo creato tante situazioni pericolose, siamo andati anche in vantaggio. Poi, nel secondo tempo, non è che c'è stato un calo fisico, ma c'è stato solo che è venuta fuori tutta la forza della vastese. Quando poi il mister ha messo dentro l'artiglieria presente, ci hanno chiuso un po' al ridosso della nostra area di rigore, ma hanno creato qualche occasione per andare a guantare il pareggio, ma alla fine l'hanno trovato su un piazzato, su un corner. Tutto sommato, io veramente sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Hanno dato tutto, più di così non si poteva fare. Mi dispiace solo che, nonostante abbiamo fatto un secondo tempo un po' più difensivo, però si poteva sfruttare meglio qualche ripartenza e dove poter far male poi e dare il colpo definitivo alla vastese. Purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso guardiamo il punto, muoviamo la classifica e ci teniamo stretto la prestazione che hanno fatto i ragazzi. Un termo lì a cui manca la vittoria dopo tante giornate, però come diceva lei ci sono buoni segnali. Sì, i segnali sono positivi. Io ho cambiato anche sistema di gioco, quindi bisognava anche capire un po' come veniva poi preso dai ragazzi e devo dire che già durante la settimana avevo percepito qualcosa di buono. Infatti la prestazione, ripeto, è una grandissima prestazione perché i ragazzi hanno dato il cuore. Volevano regalare questa gioia ai nostri tifosi perché la gente ci teneva tanto a questa partita, un derby sentito in città che mancava da oltre 20 anni. Purtroppo non ci siamo riusciti, però, ripeto, uscire fra gli applausi dei nostri tifosi per non apprezzo, sappiamo che comunque deve arrivare la vittoria quanto prima anche perché poi dà più morale ancora.